una vittoria sudata una vittoria pietro vieni con me pietro facciamo una cosa diversa dai per favore e gb channel vieni vieni dai facciamo una roba diversa niente allora si ma non fare come il calcio fa una cosa seria allora grandissima vittoria qua ci hanno vinto solo due squadre e non a caso capodolando era davanti a noi prima in questa vittoria e campo veramente tosto loro ti fanno giocare male abbiamo fatto una super vittoria ma una vittoria di squadra pietro quindi una super vittoria di squadra allora fa la te intervista no capito ma ti faccio le domande e va bene faccio giornalista infatti per questo per questo mi dirà me ok va bene e niente qui ci sono un sacco di ragazzi un sacco di tifosi e se la sono goduta questo weekend perché questa è una cosa strana invece niente ringraziamo anche loro è stato bello vincere anche per loro saluta casa no saluto i miei sono dei grandi ciao